Tre punti d'oro per lo sciacca che al Gurrera ha travolto per 6-1 il Giuliana. Mattatori di giornata i Bomber Venezia e Bon Jovi per il primo quaterna, per il secondo doppietta. Per gli ospiti rete della bandiera di Gargano. Il match si è giocato ancora una volta a porte chiuse per via di alcuni problemi burocratici legati ad aspetti amministrativi. Palermitani penultimi ed ormai con il Remi in barca, nero-verdi quasi sicuri dei play-off e con il quarto posto un po' più solido. Ottima prestazione per la squadra di Mister Rizzo, che adesso può guardare con più serenità al futuro e alle prossime partite, prima di affrontare gli spareggi per raggiungere la promozione. Domenica da incorniciare anche per Alessandro Venezia, sempre più leader della classifica Cannonieri del Girone A di prima categoria, con 20 gol. 12 centri in totale anche per Bon Jovi. Per il Ribera 1954 sconfitta a tavolino contro l'Empedoplina. Il match non si è disputato. Tra Sciacca e Ribera adesso ci sono sei punti di distanza e quindi c'è un margine di sicurezza per i nero-verdi in vista dei prossimi incontri. In vetta alla classifica intanto si riaprono tutti i discorsi. Il big match tra Altofonte e Nuovo Sportivo del Golfo infatti si è concluso 3-0 per i palermitani. La distanza tra prima e seconda in classifica adesso è soltanto di un punto. In promozione buon pareggio per l'Atletico Ribera che al Nino Novara impatta per 1-1 contro il Libertas. In vantaggio gli ospiti con Davares nel secondo tempo il pari del bomber Carovana. Per i crispini era importante muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive. Altra battuta del resto infine per Lares Menfi che ha perso per 3-1 contro il modesto Ravanusa. Per i bericini rete di Sanchez-Lesi, per i padroni di casa doppietta di Gerrano e rete di Di Salvo. Nonostante tutto resta ancora a portata di mano la zona playoff per i menfitani che seguono la nuova Sancis, diretta concorrente, a due punti di distanza. Grazie a tutti. Grazie.